allora adesso lo mettiamo tutte e due parti insieme io userò maglie basse per mettere insieme io inizierò dal punto centrale di sotto questo è sopra parte naso inizierò da qui così prendo primo punto così uno poi un catenelle e adesso facciamo andiamo con maglie basse uno al punto un momento così un momento vedi io ho iniziato da qui un catenelle catenelle catenella e poi questo questo qua uno un altro così vedi uno due tre e poi uno alla maglia alta poi due tre uno alla maglia alta due tre così ma con insieme confondere uno due tre in questo modo andiamo davanti uno vedete è finito così prossimo è l'ultimo con le fodere con la fodera qua due e poi solamente questo parte fuori tre uno due tre per girare questo angolo noi faremo un altro qua due per girare questo angolo più naturalmente poi facciamo singoli un altro qua due due tre uno due e dieci e questo diecisimo è all'angolo all'ultimo così facciamo un altro qua e come lo vedete mentre sto facendo maglie base io ho nascosto questo filo così dopo non devo lavorare di più tagliamo e poi andiamo davanti su questo maglia alta uno e due tre poi uno e uno due e tre e questo terzo adesso prendiamo questa parte fodrina e mettiamo insieme e poi andiamo come prima uno due tre uno tu è tre e questo adesso tagliamo perché l'ho nascosto abbastanza e poi adesso fodrina è finita ma facciamo un altro Prendiamo questo filo alla fine, mettiamo tutti insieme, così, e andiamo davanti. Ecco, e poi questo sul angolo facciamo due, uno, due, e nove singoli maglie basse, due, tre, otto, e poi queste nove, l'ultimo, l'ultimo lo farò qua, sopra la maglia alta, così, così, e facciamo doppio, doppia, uno, due, e adesso andiamo così, come prima, uno, due, tre, e poi uno, due, e sulla terza punto, mettiamo, prendiamo, foderina, e mettiamo tutte e due parti insieme, un momento, così, e poi andiamo davanti come prima, uno, uno, tre, uno, due, e tre, tagliamo questo qua, quasi finito questo piano, uno, due, e tre, e poi finiamo questo piano, così, e così, e questo tecnico, non lo so come si dice in italiano, così fammi sapere, lasciami, commenti, questo, e poi, una catenella, e facciamo, andiamo, con, maglie basse, uno alla volta, così, adesso è molto facile, perché questo foderina è già messa insieme, bene, bello, no, andiamo davanti, e, alla, alla fine, questo, qua, angolo, questo punto che ho fatto doppio, maglie basse, qua, e, adesso, al prossimo punto, facciamo, mezza maglia alta, e poi, facciamo, maglia alta, così, per fare questo, questo forma, rotonda, e adesso, io farò, catenelle, per fare questo, per me, 35 catenelle, è giusto, taglia per me, ma, dovete aggiungere, per vostre taglie, così, fai, come, non lo so, forse, 32 o 35, poi, prova, e se taglia giusta, vai davanti, se, se taglia un po', un po' grande, togli qualche catenelle, se, se troppo piccolo, metti qualche di più, capite, così, facciamo, 35 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 35, e poi, e poi, questo, questo punto qua, quello, all'angolo, due prima, qua, iniziamo da qui, da qui, una maglia alta, e poi, prossima, una mezza maglia alta, e, un momento, filistaccatto, e poi, andiamo davanti con, maglie basse, facciamo 10 10 maglie basse 1, 2, 3, 4, 9 e 10 e adesso io alzerò questa parte nasale un po' per fare questa forma così così io farò facciamo maglie alte 3 maglie alte 3 mezza maglie alte 1, 2, 3 così e poi facciamo 8 maglie alte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi passiamo con 3 mezza maglie alte 1, 2, 3 adesso facciamo maglie basse ma quanto? noi abbiamo fatto 10 qua così facciamo un altro 10 1, 2, 3, 9 e 10 e poi una mezza maglia alta e 1, 1 maglia alta e poi facciamo catenelle come prima io ho fatto 35 perché 35 è giusta taglia per me così anche questa parte io farò 35 due punto prima dall'angolo 1 2 facciamo maglia alta poi mezza maglia alta e adesso maglie basse adesso solo rimasta maglie basse per fare quasi finito questo punto è l'ultimo punto e adesso finisciamo questo piano così ancora fammi sapere questo tecnico in italiano è così e adesso iniziamo terzo piano questo è l'ultimo piano come prima come sempre facciamo una catanella e poi andiamo davanti con maglie basse giriamo tutto tutte le parti intero con maglie basse così questo parte possiamo fare un po un po più veloce così questo parte string facciamo una maglie bassa ogni catenella catenella così passiamo così uno alla volta dovete essere un po paziente questa parte qua così l'ultimo catenella e adesso facciamo come prima uno alla volta ma questa parte qua parte nasale dobbiamo mettere questo non dobbiamo ma io metterò questo filo filo di alluminio questo filo di alluminio questo filo di alluminio per fare per fissare questo forma di aluminio questo forma di alluminio questo forma di nasale questo si aiuta il vapore non si esce ok così così vedete questa parte che piano prima io ho fatto qua a maglie basse da questa parte io metterò questo filo così e poi facciamo maglie basse sopra così molto facile ma dovete cubare così perché questo è molto molto come si dice dimenticato credo che vi capite no? andiamo così così questo è l'ultimo con filo di alluminio adesso facciamo senza filo facciamo questa parte uguale come altre parti così ci vediamo qua e così finito adesso tagliamo filo e poi tiriamo sopra così su e poi finiamo con questo lago per dare finitura più pulito io farò lentamente così seguite bene questo punto qua da dietro tiriamo davanti e poi questo punto qua questo filo è venuto andiamo così e così e lo tiro vedete in questo modo può dare finitura pulitissimo adesso lo mettiamo sotto dentro maglie base così così lo taglio e vedi questo questo filo qua vedi questo se manca uno filo così così lo metterò così così ecco ecco Mettiamo sotto Questo Anche E dovete mettere Dovete nascondere Sul Colori uguali Adesso lo fissiamo Questo filo di alluminio Se mettete Troppo lungo Non si funziona bene Perché non si attacca sulla faccia Vedi Così Devi Togliere un po' E questo anche Voi devi aggiungere Sulle vostre facce Penso che questo è abbastanza bene per me Così Lo lascerò un po' Poi Vendiamo Così Facciamo uguale Con altre parti Tagliamo prima E poi Così Una mascherina Con uncinetto è finita Prima di fare questo video Quando ho iniziato questo video Mi sento molto nervoso Perché Prima di fare questo video Io pensavo che posso fare Più meglio Ma Quando io ho iniziato Io ho realizzato che Ho dimenticato Molto Dimenticato Tanto italiano Ho dimenticato Tante Tanti Verbi Italiani Così Era un po' Dificile Ma Comunque L'ho finito E Spero che Voi Non avevi Problemi Di capire Ok Così Colori Lo scegliete Voi Potete fare Come Bandiera Italiana Oppure Come Così O Colore Unito Ci sarà Tutto Bello Tutto Bella Sì Ok Quindi Questo 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 Mascherina Io ho fatto Fodera Con Con Feri E questo Fatto Con Uncinetto Penso Che Credo Che Tutti Due Sono Molto Utile Ma Senza Questo Filtro Non so Che Voi Italiani Può Comprare Dal Farmacia Ma Senza Questo Filtro Non si Funziona Con Coronavirus Così Dovete Mettere Questo Filtro Ok Comunque Questo Adesso Lo finirò Questo Video Qua Non so Quando Ma Ci vediamo Prossimo Per favore Like My Video Sottoscritti Sottoscritti E Mio Canale Perché Ci sono Tanti Altri Pezzi Belli Nel Mio Canale Ma Sono In Coreano Ma Comunque Possiamo Comunicare Ok Bene Boca Lupo Ci vediamo Próximo 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 Próximo